Presidente, intanto una premessa. Ritengo positivo l'aggiornamento di una norma che ormai ha compiuto i 30 anni di età su un settore di cui credo tendenzialmente si sia sottovalutata l'importanza e di cui solo recentemente si è nata una consapevolezza appunto solo negli ultimi anni, forse anche quando si è cominciato a parlare di rischio di estinzione di un insetto che è fondamentale per la nostra sopravvivenza. Certo sappiamo anche che non basterà sicuramente l'aggiornamento di una legge regionale a salvare le nostre api e quindi l'apicoltura da quelli che sono i nemici principali di questo insetto. Quindi parliamo dell'agricoltura intensiva a cui andrebbe dato molto più spazio a gestioni sostenibili dei terreni e in questo abbiamo depositato anche un ordine del giorno. L'uso smodato dei pesticidi e degli erbicidi c'è uno studio degli Stati Uniti che identifica anche come glifosato come pericoloso per la salute delle api e quindi andrebbe potenziata molto di più la lotta integrata e l'agricoltura biologica e infine i cambiamenti climatici su cui pesa per esempio il trasporto su gomma e quindi il trasporto stradale di cui però questa regione continua a puntare come volano di questa economia. Ora per entrare nel merito, sulla carta le finalità sono condivisibili dal nostro punto di vista. C'è però un articolo che riteniamo, lo sapete, particolarmente critico che pesa sul giudizio finale di questo progetto di legge ed è l'articolo 7 che riguarda la tutela, la presunta tutela dell'ape ligustica. La nostra regione è una delle più importanti in Italia proprio per la presenza di api ligustiche, forse è l'ultimo baluardo di un territorio già ibridato. Dal nostro punto di vista è dovere della regione tutelare in ogni modo possibile la nostra ligustica. Ce lo dice l'Unione Europea attraverso una raccomandazione dove dice chiaramente che dobbiamo con ogni mezzo preservare gli ecotipi locali al fine di evitare l'erosione del patrimonio genetico. Crediamo anche che il regolamento europeo per esempio sulla zootecnia non riguardi le api per quanto riguarda gli scambi commerciali dove si parla di bovini, suini, equini, caprini e ovini e in questa raccomandazione in apertura si dice anche che la ricerca della competitività nel settore zootecnico non dovrebbe comportare l'estinzione delle razze le cui caratteristiche sono adattate a specifici contesti biofisici. In poche parole queste parole devono essere lette in questo modo. Se c'è il rischio che la sottorazza locale si possa estinguere in caso di contatto con la sottorazza diversa va preservata la sottorazza locale. Allora noi partiamo da un decreto che è quello del 92 dove si dicevano alcune cose molto chiare. Era vietata l'introduzione di api di sottospecie diverse dalla ligustica ed era vietato l'allevamento di ibridi. Quindi in poche parole non si potevano detenere api diverse dalla ligustica. Oggi con questo progetto di legge rimane il divieto dell'introduzione di api diverse ma si permette l'allevamento, quindi si possono detenere api diverse dalla ligustica. E poi viene inserito il divieto di moltiplicazione e commercializzazione di api regine inserendo controlli e sanzioni che però a nostro avviso, come abbiamo già avuto modo di dire anche in Commissione sono inattuabili con il rischio che nella realtà si produca l'effetto contrario rispetto a quello che si vuole raggiungere cioè quello di incentivare invece chi vuole inquinare la nostra preziosa sottospecie. è stato detto anche in udienza conoscitiva, se io sono un apicoltore e detengo api diverse dalla ligustica e voglio moltiplicare le mie api regine o chi viene a controllarmi viene proprio nel momento in cui la larva diventa ape oppure io non sarò mai sanzionabile e questa è una delle criticità, quindi io devo essere colto sul fatto come devo essere colto sul fatto nel momento in cui vendo materiale apistico vivo diverso dalla ligustica e quindi a meno che non ci vogliate dire che volete inserire i funzionari sotto copertura mi sembra particolarmente difficile che questi controlli e queste sanzioni vengano applicate tant'è che dal mio punto di vista voi non farete una multa che sia una perché sono controlli che sono inattuabili non ci rassicurano nemmeno i 10 km di tutela intanto perché sono facoltativi e noi chiediamo che siano obbligatori per chi detiene le ligustiche e poi perché chi può chiederli sono apicoltori qualificati che devono essere iscritti all'albo in un territorio che è il nostro che non è mappato noi non abbiamo una mappatura in regione di chi detiene le ligustiche e chi no quindi da questo punto di vista questo articolo è particolarmente critico io capisco che la normativa forse sia complicata che ci vogliano competenze giuridiche per affrontarla però credo che lo si potesse fare con un po' più di coraggio e con le giuste competenze quindi sappiamo benissimo che ci vuole poco tempo per inquinare la purezza della nostra ligustica mentre ci vogliono moltissimi anni per tornare alla purezza genetica quindi abbiamo presentato una serie di emendamenti intanto il primo che riguarda il glifosato quindi gli erbicidi e i pesticidi che non vengono mai citati all'interno di questo progetto di legge rispetto alle proposte che può fare il tavolo apistico di tutela della ligustica e poi chiediamo che vengano inseriti anche per quanto riguarda i divieti di utilizzo di prodotti fitosanitari pericolosi e mi sta bene ma chiediamo anche di aggiungere erbicidi e pesticidi proprio anche alla luce della ricerca che è stata fatta negli Stati Uniti in cui si evidenza proprio la pericolosità del glifosato sulle nostre api un altro emendamento è quello, come dicevo prima è quello di chiedere l'obbligo dei 10 km di tutela quindi che sia un obbligo e non una possibilità sia per chi produce ligustiche ma soprattutto per chi seleziona e fa ricerca sul miglioramento genetico poi abbiamo presentato tre ordini del giorno uno che riguarda la premialità in termini di contributo economico per chi produce attraverso metodi biologici e un punteggio maggiore a chi decide di convertirsi a biologico chiediamo di sostenere la ricerca abbiamo avuto un'interessante audizione del professore Fontanesi che io ho apprezzato particolarmente e appunto chiediamo di finanziare e sostenere ricerche di questo tipo e poi lo si diceva anche stamattina è stato citato il referendum della Baviera dove oltre un milione e mezzo di persone hanno chiesto appunto questo referendum proprio per arrivare entro il 2015 ad avere il 20% delle superfici agricole coltivate con metodi biologici e arrivare al 30% entro il 2013 dai dati che siamo riusciti a ricavare l'Emilia Romagna oggi vanta una percentuale di 6,1 di superfici coltivate a biologico dati presi dal Sistema di Informazione Nazionale sull'agricoltura biologica comunque insomma saremo intorno al 10, 11 adesso bene quindi vuol dire che il 20% è anche un obiettivo raggiungibile quindi abbiamo presentato un ordine del giorno proprio per andare in questo senso quindi se è un obiettivo raggiungibile perché non fissarlo come obiettivo appunto come obiettivo sfidante da raggiungere queste sono un po' le nostre considerazioni ribadisco l'articolo 7 purtroppo ha pesato molto sul giudizio finale di una legge che sicuramente migliora la normativa esistente che ormai ha 30 anni e che però, ripeto, dal nostro punto di vista presenta questa criticità che è quella di non tutelare i nostri apicoltori che producono e detengono api ligustiche